la radio speranza in blu la radio della chiesa metropolitana di pescara penne ma ora in onda medicina oggi in studio anna paola di jenno con il dottor cristian poglio medico oculista bene benvenuti alla nuova rubrica di medicina su radio speranza siamo sugli 87.6 megahertz parliamo di una rubrica nuovissima oggi è il primo giorno si chiama medicina oggi siamo ospite da noi il dottor cristian poglio medico chirurgo in oculistica ciao cristian come stai benvenuto nei nostri microfoni e ci auguriamo che questa rubrica abbia il successo che merita perché sai l'oculistica è un campo un pochino minato nel senso che non tutti la conosciamo e la troviamo difficile allora spiegaci innanzitutto com'è nata l'idea di questa rubrica sì innanzitutto grazie dell'invito di aver scelto praticamente di iniziare questa nuova avventura radiofonica che dovrebbe rendere un attimino più vicina la possibilità del dei di coloro che ci ascolteranno di poter fare domande sia attraverso il portale della radio che eventualmente anche se decidessero di fare una telefonata alla radio e esprimere domande che potrebbero quindi anche sui canali social mi raccomando siamo tutti a ben sia su facebook su youtube su google plus dove volete lo del resto già lo sappiamo quindi anche attraverso ovviamente la mail la cosa principale che poi ribadiremo alla fine tutti questi contatti quindi procuratevi innanzitutto carta e penna lo dico per i nostri radio ascoltatori quindi quindi questa rubrica è nata per rendere più semplice il campo dell'oculistica si può dire così e ci saranno poi anche altri specialisti nelle puntate successive che sia nell'ambito della cardiologia della dietologia della psichiatria quindi ci sarà un seguito di molte figure professionali tu imparerai ad essere il nostro oculista di fiducia a questo punto speriamo sicuramente sicuramente lo sarà allora noi abbiamo ricevuto due domande partiamo con la prima e così ci spieghi me allora la signora o il signore dice mi è stato diagnosticato il distacco del vitreo all'occhio sinistro oltre a una specie di fastidiosa moschina che si può che che si interpone nella nella visuale avverto bruciore ed arrossamento specie la sera per me questo è arabo che cosa significa cosa stiamo parlando all'interno dell'occhio via una sostanza che lo riempie quasi nella sua totalità e questa è una sostanza tipo fosse un gel e si chiama vitreo noi tutti ovviamente nasciamo con un bulbo oculare che ha una certa pressione e quindi è gonfio grazie a questa sostanza che lo riempie e questo vitrio negli anni può subire delle variazioni soprattutto perché il costituente principale del vitrio è acqua quindi nel momento in cui purtroppo come è abitudine non corretta di molti pazienti negli anni quest'acqua viene meno in quanto la giusta e corretta assunzione di liquidi viene meno perché il paziente dice non ho tanta sete non ho premura nell'andare a bere in maniera costante durante la giornata il vitrio negli anni si asciuga si secca si secca uguale proprio sì è l'abitudine che si ha del non bere comporta purtroppo questa formazione di aggregati di proteine che all'interno del gel forma chiamiamoli grumi che possono avere qualsiasi tipo di forma forma di virgoletta a forma di puntino a forma di filo e quindi ovviamente queste moschine che poi si spostano dentro questa struttura gelificata a volte vengono notate durante la giornata poi scompaiono poi ricompaiono questo è un problema che ovviamente deve essere ben considerato perché se fosse solo un problema vitreale non crea poi delle ripercussioni visive se il problema vitreale si ripercuote sulla retina che la potremmo definire come una carta da parati che posizionata sul fondo dell'occhio protegge il vitreo è una struttura che potrebbe proteggere la retina è una struttura nervosa che deve praticamente essere collocata su tutta la parete posteriore del bulbo ed è a contatto con questo gel se questo gel dovesse disorganizzarsi e iniziare a creare trazioni sulla retina si potrebbe avere un problema serio fino anche ad un problema di distacco retinico quindi soprattutto il messaggio che ci deve essere che se ci sono queste moschette il paziente deve rivolgersi a un oculista deve farsi mettere delle gocce che dilatino la pupilla e vedere il fondo dell'occhio e qualora queste moschette si associassero lampi e allora il discorso è sicuramente la retina inizia ad avere un interesse perché i lampi significa che comunque vi è una trazione sulla retina e lì l'oculista deve stabilire se è semplicemente necessario una terapia di reidratazione o se è necessario addirittura intervenire o con dei laser per rinforzare la retina o addirittura chirurgicamente ho capito mi viene in mente una domanda velocissima a questo proposito e a proposito di queste moschine che molto spesso possono essere causate anche da un evento traumatico che uno ha subito assolutamente sì è vero che poi piano piano scompaiono appena ci si rilassa un attimino o mi hanno detto la questione del rilassarsi o dello stare tranquilli non influisce né in un senso né nell'altro diciamo che scompaiono perché se voi ovviamente immaginate che l'occhio è una struttura come fosse una sfera e quindi si dovessero formare delle opacità queste opacità poi piano piano possono decantare cioè depositarsi nella parte bassa dell'occhio il paziente è convinto che ormai il problema sia risolto ma il problema è presente ma non lo nota più quindi è come se il cervello si settasse per ovviare a questa cosa un po' sì è un po' proprio l'opacità nel momento in cui si depositano queste piccole moschine questi piccoli aggregati il paziente non li vede ho capito grazie per questa delucidazione che mi è venuta estemporaneamente perché conosco una persona che ha avuto un evento traumatico e per lungo tempo vedevo queste moschine che poi piano piano si sono andate esaurendosi ovviamente ci hanno spiegato andando da un tuo collega perché c'eravamo in effetti abbastanza spaventati perché è stata una cosa del tutto inaspettata poi c'è una seconda domanda altrettanto interessante si può prevenire la cosiddetta maculopatia se sì come e in caso non si potesse prevenire una volta diagnosticata cosa si può fare la maculopatia è una patologia in forte aumento negli ultimi anni perché la macula è la zona centrale della retina ed è la parte più nobile perché è quella deputata a riconoscere la visione in maniera netta e distinta nel vedere i colori perché è la parte che permette di vedere non in bianco e nero che è la parte periferica della retina ma è la parte centrale dove ci sono delle celluline che si chiamano coni quando la macula purtroppo si ammala e si parla a questo punto di maculopatia ci sono due tipologie che sono una forma secca o asciutta e una forma umida di solito la maggior parte delle maculopatie il 70 per cento delle maculopatie di solito sono quelle secche e nelle forme secche la cosa più importante visto che le terapie a disposizione sono meno rispetto alla forma umida la cosa più importante è prevenirla prevenirla significa che oggi non ci sono farmaci che possano dare garanzia che la maculopatia una volta diagnosticata non avanzi però si è visto indubbiamente che se c'è un giusto comportamento che è fatto ovviamente dell'assunzione di principi attivi presenti all'interno dell'amaculo in particolar modo la luteina e attraverso assumibile attraverso sia alimenti a base di colori rossi come noi spesso diciamo che possono essere il mirtillo le bacche pomodori carote fragole insieme alle periodi delle fragole ciliegie insomma mangiamole assolutamente un po' di tutto varia oltre indubbiamente al discorso alimentare a volte non è sufficiente perché veramente dovremmo creare veramente delle degli obblighi anche un po' fuori luogo al paziente però possono aiutare assolutamente poi ci sarebbe la possibilità di invece fare dell'integrazione con dei prodotti farmacologici che appunto vengono nominati integratori che possano dare il fabbisogno necessario ma la cosa importante soprattutto quello che dico sempre ai pazienti è di avere premura di occhiali da sole certificati in modo tale che siano occhiali da sole con lenti ottime e che aiutino a prevenire l'esposizione agli ultravioletti ah questa è una cosa molto molto importante quello che ci stai che ci stai dicendo sicuramente ne terremo conto anzi teniamone tutti conto perché la nostra vista è preziosissima io ringrazio il dottor Cristian Poglio che ritroveremo prestissimo e mi raccomando fate le vostre domande intanto vi do i nostri contatti in modo tale che potete già iniziare a scriverci allora la posta elettronica ovviamente Radio Speranza chiocellina diocesi pescara.it dopo siamo su facebook alla pagina Radio Speranza su google plus e youtube al canale Radio Speranza ovviamente le frequenze siamo sempre sugli 87.6 MHz siamo riperibili anche attraverso sms whatsapp 333 580 96 43 mi raccomando scrivete anche qui se avete qualche domanda oppure addirittura potete anche telefonarci allo 085 690 227 io ringrazio tantissimo il nostro dottore penso che come prima puntata non sia andata male ti aspettiamo la prossima volta con altre curiosità da parte di altri radioascoltatori alla prossima a presto abbiamo trasmesso Medicina Oggi in studio Anna Paola di Ienno con il dottor Cristian Poglio medico oculista a presto